Nell'andamento della partita, secondo noi, secondo me, visto la vicinanza con la precedente, abbiamo reimpattato bene la gara. Ovvio che quando parti in maniera leggermente diversa, come abbiamo fatto noi con Beto Gomez, ti aggiusti un po', però i ragazzi hanno eseguito molto bene quella cosa lì, che per noi è una semplice piccola freccia di atipicità, l'arco durante la partita. Invece ci siamo partiti e abbiamo avuto un buon primo tempo. Sono stati bravi Flaccadori e Gomez a sostituire, passatemi il termine, Schiltz nei suoi compiti in maniera leggermente diversa, ma sono stati bravi, sono stati molto preziosi nell'andamento della gara, i minuti di Lech Thaler e di Franke, uno nel primo tempo, uno nel secondo. Poi, terzo quarto, sinceramente ci siamo un pochino, Avellino ci ha messo un po' sotto, ci siamo anche un po' persi, è stato difficile. In quei momenti lì, io ho la mia teoria, vado avanti con la mia teoria, bisogna stare calmi, seguire un po' l'andamento della gara e aggiustare piccole cose, piccole cose perché un periodo che va male possa essere almeno costruttivo per quello che viene dopo. Lasciando perdere la vittoria o no, perché poi fa un canestro in meno e loro uno in più, l'hai persa la gara, però almeno l'abbiamo rimessa sui binari. Secondo me l'abbiamo rimessa sui binari perché invece di pensare a 6.000 cose, a come gli dicevo, a non girare il mondo, abbiamo aggiustato piano piano, piano piano, trovato delle fissità nei quintetti che ci potessero aiutare per giocare con più o meno pick and roll, più o meno la palla dentro in base ai quintetti che c'erano e questo ci ha permesso di aggiustare il secondo tempo.